caro matteo renzi io tutti questi video su di te non li vorrei fare sono stanco ma tutte le cerchi ogni giorno le spari una nuova hai detto che l'airbus non era per te e tu non l'hai mai usato guarda un po ma mettiamo caso fosse stato vero che non ci ha mai messo piede pur i due fatto spendere 150 milioni dei soldi dei cittadini italiani senza averlo mai utilizzato peggio ma donarli ad esempio ai paesi terremotati no se io da mio padre mi facevo comprare una bella macchina e neanche la utilizzavo ma lo sai le botte che prendevo sei fortunato che non sono tuo padre ma te il problema tuo caro renzi non sono le promesse non mantenute quello hanno fatto tutti i governi ma le bugie che dici e che te le scordi a te servirebbe un accanto che al momento giusto te le ricorda enrico letta stai sereno nessuno vuole prendere il tuo posto zitto ma te maremma ampestata toglierò le accise dalla benzina non lo dire ma te se perdiamo il referendum io abbandono la politica no questa è troppo grossa ma te l'airbus non era per me non l'ho mai preso è proprio il caso di dire che quando ci sei tu le cazzate volano no Grazie per la visione!